Ciao e benvenuto da Matteo Bricchi. In questo video presenterò le novità che troviamo in Adobe Camera Raw 8, fornito con il nuovissimo Photoshop CC. Le stesse novità le ritroviamo anche in Lightroom 5. Se vuoi imparare il fotoritocco in modo facile e divertente, dai un'occhiata al mio sito, matteobricchi.com, dove, oltre ad informazioni sui miei corsi, potrai trovare il mio videocorso completo in DVD. Ora disponibile anche in edizione speciale, con moltissimi contenuti extra. Bene, vediamo ora le novità che ci aspettano in Adobe Camera Raw 8. Lo strumento pennello correttivo o di rimozione macchie ha finalmente ottenuto una caratteristica presente nei software concorrenti da molti anni. Possiamo infatti finalmente cliccare Trascinare per creare una correzione che non sia solamente rotonda. Automaticamente Photoshop andrà a scegliere una parte simile a quella da correggere per poter effettuare la copertura del difetto. Tramite il tasto V possiamo nascondere la visualizzazione dello strumento per vederne il risultato, che in questo caso direi essere ottimo. Non sempre la scelta della sorgente di correzione è perfetta, alcune volte magari può essere utile manualmente scegliere un'altra zona. Anche se in questo caso, ripeto, la correzione era avvenuta perfettamente. Proviamo lo strumento anche per una correzione un po' più difficile, come questo rametto davanti alla porta. Conviene sicuramente farlo in più passate, quindi comincio nascondendo la prima parte, ecco in questo caso devo sicuramente spostare la sorgente della correzione, tasto V e direi che ci siamo. Mi sposto in un altro punto per raggiungere un'altra correzione, clicco e trascino, tasto V, in questo caso la posizione è perfetta, di nuovo tasto V, ricomincio per quest'ultimo punto, anche in questo caso sposto leggermente la sorgente, ok, il risultato non è perfetto, ma è sicuramente accettabile. Per ottenere migliori risultati è sicuramente opportuno spostarsi in Photoshop e lavorare con il pennello correttivo, che ha un funzionamento molto più flessibile e accurato. Ad ogni modo questa sicuramente è una miglioria molto gradita e da tempo attesa. Lo strumento di rimozione macchie è spesso utilizzato anche per correggere quelle piccole macchioline che troviamo di solito nel cielo, date da una sporcizia presente sul sensore. In questa foto le macchioline sono poco visibili, quindi magari difficili da trovare, ma se andassimo a stampare un grande formato sarebbero assolutamente visibili. Abbiamo questo nuovo strumento di visualizzazione imperfezioni che ci permette, tramite questa vista bianca e nera, di accentuare la posizione delle imperfezioni per poterle correggere facilmente, anche rimanendo in questa visualizzazione. In questo modo siamo sicuri di non lasciarci scappare neanche un piccolo puntino nero. La vista può essere attivata o disattivata anche tramite il tasto Y. Con il tasto V, invece, nascondiamo momentaneamente le forme correttive dello strumento per vedere il risultato. Il pannello di correzione lente ha ottenuto un'interessante nuova caratteristica. Finora avevamo la possibilità di attivare il profilo automatico che andava a correggere distorsione e vignetatura riconoscendo automaticamente l'obiettivo utilizzato. Sicuramente una grandissima caratteristica. Come vediamo, un effetto a barilotto dato dalla distorsione della lente viene corretto in modo ottimale. Vediamo ora come è stata inserita anche un'automatizzazione per la correazione prospettica. Finora dovevamo agire manualmente, ora abbiamo queste nuove possibilità che aiutano a raddrizzare la prospettiva di un'immagine come questa. La A sarebbe l'automatico. Grazie a questa opzione il software cerca di correggere nel modo ottimale la prospettiva. Magari non raddrizza perfettamente la foto ma cerca di ritagliarne e di perderne meno parti possibili. Vediamo la foto originale e la foto corretta. Sicuramente un ottimo lavoro. Abbiamo poi la possibilità di raddrizzare solo le linee orizzontali. Vediamo niente o linee orizzontali. la foto viene leggermente ruotata. Solo le linee verticali. In questo caso abbiamo una forte distorsione perché Photoshop è alla ricerca di linee da rendere perfettamente verticali. Sicuramente il risultato dell'automatico era migliore. Perlomeno a livello fotografico. L'ultima opzione raddrizza sia le linee orizzontali che i verticali e lo fa in modo completo. Anche in questo caso magari l'edificio è perfettamente dritto ma a livello fotografico il risultato non è ottimale. Se però avessimo la necessità di avere la prospettiva perfettamente a 90 gradi potremmo utilizzare questa opzione e se la foto viene un po' schiacciata tramite aspetto possiamo allungarla o schiacciarla decidendo ad occhio qual è la prospettiva migliore. Possiamo attivare il mostra griglia per avere una conferma visiva della perfetta posizione dell'edificio. Chiaramente con una modifica così drastica la foto viene tirata e schiacciata ci ritroviamo delle parti trasparenti dobbiamo poi manualmente tramite lo strumento taglierina ritagliare la porzione di foto interessata. In alternativa annullo l'operazione se volessimo recuperare questo angolino di cielo per non tagliare troppo a filo della croce potremmo aprire l'immagine in Photoshop selezionare questa parte trasparente Shift più Backspace per ottenere il modulo di riempimento riempimento in base al contenuto diamo l'ok e correggiamo questa parte. Possiamo ora ritagliare l'immagine tramite la taglierina di Photoshop. Oltre allo strumento pennello di regolazione e filtro graduato è stato aggiunto un nuovo strumento di regolazione mirata il filtro radiale. Esso funziona esattamente come i due precedenti ma ci permette di definire l'area di azione in un modo leggermente diverso. Clicchiamo e trasciniamo per creare un ovale o un cerchio che possiamo poi spostare e ruotare e tramite le regolazioni decidiamo cosa succede all'interno o all'esterno di questa forma. Provo ad abbassare notevolmente l'esposizione in questo momento l'azione è all'interno e abbiamo una certa sfumatura che decide con quale velocità l'effetto ha luogo. chiaramente abbassandola abbiamo un bordo netto ed alzandola aumentiamo sempre di più l'area di transizione. Cliccando su esterno decidiamo di applicare gli effetti impostati all'esterno della forma di regolazione. Abbiamo a disposizione le stesse caratteristiche che avevamo per il pennello e per il filtro graduato. Tramite il tasto V possiamo nascondere la forma dello strumento per valutare l'effetto sull'immagine. Di nuovo V per rivederla. Come per gli altri strumenti possiamo aggiungere tanti filtri quanti ne desideriamo. Ognuno sarà controllato dal suo pin. Quando ne aggiungiamo uno nuovo prenderà le caratteristiche del precedente ma chiaramente possiamo modificarle a piacimento. In questo caso sta agendo all'esterno quindi va a disturbare l'altro ipotizzando di impostare l'interno come azione vediamo che le regolazioni avvengono appunto all'interno di questa forma. In realtà un effetto del genere era facilmente ottenibile grazie al pennello la comodità di questo strumento è l'utilizzo con l'impostazione esterna come appunto utilizzato in questo caso. Per eliminare una regolazione attiva basta premere il tasto Backspace. Tutte le regolazioni di Camera Raw possono ora essere applicate anche ad un livello di Photoshop grazie al nuovissimo filtro Camera Raw. Puoi scoprire questa ed altre novità grazie ad un altro video in cui presento il nuovissimo Photoshop CC. Grazie per aver seguito il mio video e alla prossima!